Stasera parliamo di etruschi e in particolare dei loro abiti, anche se ho voluto in questo caso fare un omaggio alla Rissa Bonfante che poi conosceremo meglio chi è e perché ho voluto inserirla in questo aspetto. Dunque come vedete sulla barra laterale della slide c'è una frase, poche parole, che indicano un po' il contenuto della slide, questo lo troverete su tutte le slide che affronteremo insieme. In questo caso ho messo un mistero in evoluzione e ho anche inserito due riferimenti email, due riferimenti web scusate, in cui si parla del mistero etrusco perché in effetti gli etruschi sono stati spesso nominati e conosciuti proprio per questa loro caratteristica un po' particolare di avere, almeno si pensava o si pensa tuttora, un certo mistero, un mistero sulle origini, mistero sulla loro civiltà, mistero sulla loro lingua. Oggi in realtà noi sappiamo negli ultimi decenni gli studi sono andati molto avanti e sappiamo che non è proprio 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 così e quindi è un po' un'affermazione provocatoria quella che vi ho fatto. Però è vero che per molto tempo, per molti decenni, lo studio sugli abiti del mondo etrusco non era stato altrettanto investigato quanto quello per esempio sull'arte o sui rituali funebri o su qualsiasi altro aspetto legato alla civiltà etrusca e ci è voluto appunto forse gli inizi di questi studi sono dovuti proprio ad una persona particolare che è Larissa Bonfante che a breve vi presenterò. Ovviamente il riferimento del sorriso dell'Apollo di Veio è relativo al sorriso etrusco e al misterioso sorriso etrusco quasi da Gioconda così come trovate spesso descritto eh anche se in realtà con la Gioconda non c'entra niente però giusto ehm un primo inquadramento per chi di voi non è insomma del tutto addentro agli studi sugli etruschi e sulla civiltà da eh proto etrusca ad etrusca quindi mh è una cronologia molto generica che semplicemente vi dà eh così un po' una un'idea eh di quello che di cui andremo a parlare eh di lato vedete che invece ho messo una cosa che mi piace sempre e sottolineo sempre ai miei studenti gli etruschi in realtà non chiamavano se stessi etruschi ma chiamavano se stessi rasenna almeno noi lo pronunciamo così ehm rasna rasenna eh il significato è interessante perché voleva dire eh associazione di stati gli Stati Uniti e io in questo prendo sempre un po' in giro i miei studenti che quasi sempre sono appunto americani vengono quasi tutti dagli States appunto e dico vedete esistevano già gli Stati Uniti anche nell'antichità gli Stati Uniti dell'antichità erano eh gli etruschi e qua vediamo la diffusione eh in buona sostanza eh la diffusione del del mondo e della civiltà etrusca con eh vediamo bene anche le varie interrelazioni tra diverse eh diverse società anche e quindi anche le eventuali influenze che vedremo nell'ambito del dell'abito sono eh notevoli cioè ci sono e sono interessanti sono importanti e eh accenno quindi vi parlo di Larissa Bonfante Larissa Bonfante è stata una persona a me molto cara effettivamente che ho conosciuto quando ancora era una studentessa negli anni ottanta come ho scritto nel post sul mio sito è stata una una conoscenza casuale nel senso che mh sono stata portata a conoscere il suo lavoro la sua opera Etruscan Dress eh negli anni ottanta quando io facevo l'esame di etruscologia con il professor Camporeale e fu lui visto che io capitò nel 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 discorso di cui ci si ci si presentava e si decideva il piano di studi per l'esame che io gli dicessi che parlavo inglese e lui mi disse ah bene c'è questo testo si chiama Etruscan Dress non è stato tradotto ehm le piacerebbe farlo le piacerebbe portare questo all'esame e io tutta contenta effettivamente eh dissi beh sì ben volentieri perché univa la passione che avevo da sempre per gli etruschi con quella dell'abbigliamento e così eh per l'esame mi misi a leggere questo testo è un testo molto ricco molto dettagliato tenete tenete presente che è stato pubblicato per la prima volta nel 75 1975 quindi manca anche di tutta una serie di scoperte che sono state fatte in seguito però nonostante questo eh Larissa era riuscita a dare un quadro molto preciso puntuale anche basandosi sulle le immagini sulle sulle opere d'arte quindi sull'iconografia eh un'immagine molto precisa di quello che poteva essere l'abbigliamento etrusco attraverso vari periodi storici ed era questa un po' una novità perché era molto dettagliato qui vedete che tra l'altro pur essendo un'accademica lei insegnava per eh la New York University quindi una delle più prestigiose per Princeton ehm è stata una delle accademiche più eh importanti dal punto di vista anche proprio dell'etruscologia non disdegnava però di vestirsi eh secondo eh quello che all'epoca si conosceva del mondo etrusco e qui la vedete per esempio in un una ricostruzione eh ipotesi di ricostruzione di abbigliamento nel quale eh con il quale lei eh impersonava eh Tanachilla e eh il suo collega eh impersonava Tarquino Crisco qui sono nel giardino del Museo Teologico di Firenze perché eh ad un certo punto Larissa io l'ho conosciuta qui a Firenze eh mi è stata appunto presentata io l'avevo contattata e e lei è stata sempre gentilissima anzi abbiamo anche poi condiviso vari interessi perché eh avendo scoperto che io mi ero tradotta il suo libro eh dall'inglese all'italiano eh addirittura le venne in mente di propormi di 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 fare proprio la traduzione per la pubblicazione poi questo progetto non è mai andato in porto ma eh è restata sempre una grande stima tant'è che eh dopo la pubblicazione di Etruscan Dress ehm lei mi mandò una copia firmata eh proprio in memoria di questi di questi contatti che avevamo avuto e così ha fatto anche per un'altra pubblicazione che è The World Roman Costume che è stata un'altra importante pubblicazione in questo caso sugli inizi del mondo romano molto molto interessante scritto con l'insebesta e eh anche in quel caso ho la copia autografata dalla Larissa ehm nell'immagine che segue vi faccio vedere alcune delle sue pubblicazioni quindi potete avere un'idea di tutto quello di cui lei si è occupata e in particolare appunto anche dell'abbigliamento ma non soltanto etrusco ehm se non lo conoscete vi suggerisco proprio The World of Roman Costume che è mh edito da una ventina d'anni ormai ma è un testo fondamentale secondo me per gli studi degli inizi del mondo romano e poi molti molte altre cose ha continuato a lavorare praticamente mh fino a pochi mesi prima di morire eh è scomparsa nel duemiladiciannove e ehm eh devo dire che è veramente stata una personalità mh bellissima una persona solare di cui veramente si sente la mancanza mh anche proprio per la sua energia per la sua passione con gli studenti quindi questa serata un po' dedicata a lei perché eh il suo lavoro è stato per me effettivamente uno di quelle di quelle opere che comunque ti formano e ti aiutano a capire come ti devi muovere eh nel nel campo di studi anche se poi io non ho seguito ehm soltanto insomma non ho fatto soltanto il campo dell'archeologia ma mi sono spostata più sul medioevo e poi sui tempi moderni sulla moda contemporanea ma sicuramente la sua metodologia di ricerca è stata una eh importante per me e penso anche per molti altri studiosi effettivamente e cominciamo a dare un'occhiata a quello che potrebbe essere il nostro interesse partendo da qualcosa di eh molto conosciuto ovvero eh spero per voi che sia conosciuto altrimenti ne parliamo insieme che sono i tessuti eh partendo da quelli soprattutto del dei ritrovamenti di verucchio. Ora eh qual è il senso? Qual è eh l'importanza di questo di questi materiali? Beh eh anche se non si tratta del mondo etrusco classico eh diciamo così dell'apogeo della civiltà etrusca ma siamo in un ambito più antico sono assolutamente aspetti che non possono essere eh trascurati perché ovviamente corrispondono a eh oggetti reali e utilizzati eh nell'ambito comunque del degli inizi della della civiltà etrusca. Siamo in ambito villanoviano, proto-etrusco. Dunque in particolare vi è da ricordare che eh la maggioranza dei tessuti eh in ambito delle antiche civiltà e poi fino a tempi assai moderni che veniva utilizzato quotidianamente era sostanzialmente la lana e questo mh è confermato poi anche dai ritrovamenti. Eh la lana è mh sostanzialmente di produzione locale per molto tempo. Noi abbiamo varie rappresentazioni anche dei processi di lavorazione della lana. Lo vedete? Ho inserito il tintinnabolo di Bologna perché è uno di quelli in cui vi è la rappresentazione piuttosto chiara dei processi di lavorazione che ci fa anche capire quanto fosse importante proprio la realizzazione ma ne parleremo meglio anche in seguito la realizzazione dei tessuti. Era utilizzato ovviamente anche il lino eh il lino era mh specialmente in un periodo così alto mh più costoso della lana. Eh ne abbiamo testimonianza anche in contesti ritualizzati mh quindi all'interno delle dei ritrovamenti archeologici mh se ne trovano tracce per esempio su alcune urne se adesso poi soprattutto con i nuovi metodi di rilevamento anche se il tessuto di per sé è scomparso però si possono trovare mh delle immagini chiamiamole in questo modo del tessuto che sono rimasti a contatto con metalli piuttosto che sulla terra e che hanno lasciato quindi proprio la loro impronta in qualche maniera da cui si riesce a capire moltissimo anche semplicemente della della realizzazione. Comunque eh per molto tempo è stato un bene mh abbastanza importanza lussuoso ehm da un certo momento in poi diventerà più comune diventerà anche importante la quantità di importazione che si farà del lino. La produzione locale eh era diciamo di qualità meno eh ottimale rispetto a quella che veniva importata per esempio dalle Egitto o da altre zone dove il lino cresce meglio e viene prodotto con una qualità superiore però mh noi troviamo eh a un certo momento da un certo momento in poi l'uso del lino anche si diffonde maggiormente. Non manca la produzione di feltro e gli etruschi hanno questa caratteristica rispetto ad altri popoli come i greci per esempio che amano moltissimo i copricapi e li troviamo per molto tempo e quindi mh da questo punto di vista eh i cappelli e anche altri accessori potevano essere realizzati in feltro e noi li troviamo testimonianza in vari momenti. Poi ovviamente non manca la produzione di oggetti e abbigliamento in pellame e in cuoio per lame sicuramente per le cinture mh anche del perizomi e sorta di pantaloncini che poi vedremo meglio eh il cuoio ovviamente per le scarpe le cinture cappelli accessori e molto altro poteva essere eh di ogni tipo e eh come accennavo all'inizio eh nel parlare dei tessuti etruschi non si può non fare riferimento ai ritrovamenti di Verrucchio. Sono stata alcune volte al museo di Verrucchio che se non lo conoscete vi suggerisco di andare e scoprire perché è bellissimo molto piccolo eh ma ha dei materiali che sono francamente straordinari e molto collegati anche a questa importanza del del mondo tessile. Non soltanto eh vi è una ricca eh quantità di frammenti tessili eh che provengano da da dai ritrovamenti funebri ma vi sono anche degli oggetti come appunto i rocchetti ma come anche il trono che è un trono famoso il ligno eh sul quale vi è anche una rappresentazione di procedimenti di di tessitura particolari eh di cui parlerò tra breve eh i tessuti ritrovati hanno due caratteristiche eh la prima è che mh molti di essi derivano mh sono avanzi mh dalla pira funebre quindi presentano uno stato di conservazione ovviamente delicato questo tutti questi ovviamente ma in particolare quelli che provengono dalla pira funebre sono eh solitamente mh calcificati eh però conservano i colori e questo è interessante eh e poi vi sono invece i frammenti di tessuti che sono stati invece deposti nel momento dell'inumazione sopra l'urno attorno all'urna e hanno altre condizioni di conservazione mh un pochino più eh delicate probabilmente però ora li li vediamo in questa slide vi ho messo eh questi due eh tessuti perché da un lato molti dei frammenti tessili presentano dei motivi a scacchi o a lavorazioni geometriche che però sono ottenute con una tecnica già molto avanzata perché si tratta di eh non soltanto semplice eh alternanza di colori che realizza il tessuto a scacchi come abbiamo visto eh quello precedente nella slide precedente chiamiamolo plaid eh per intenderci come quello delle delle coperte che ancora oggi produciamo noi li chiameremmo facilmente scozzesi e poi invece si parla di etruschi quindi è chiaro che il termine scozzesi è inappropriato però eh per darvi l'idea di quello di cui stiamo parlando in realtà questi tessuti presentano delle lavorazioni già molto sofisticate dove vi è eh per ottenere delle eh delle dei motivi decorativi sul tessuto spesso di tipo geometrico come quello che vedete qui a sinistra il tessuto operato tebenna eh una torsione del filato a S a Z eh una torsione eh il filato può essere ritorto a S quindi va in un verso o a Z che va nel verso opposto eh che però denota una grande abilità nel mettere insieme i filati in modo che si ottenga quasi un effetto crepe sul quindi ritorto e eh eh che produce quindi anche solo con l'effetto della tessitura mh un effetto di strisce o di quadretti o comunque geometrico molto sofisticato nel caso eh poi della rifinitura dei dei bordi soprattutto in questo caso oltretutto il eh i bordi eh delle dei ritrovamenti tessili più famosi che sono quelli della tomba 89 che ha dato adito ad un intero ad un'intera pubblicazione che io anche in questo caso vi suggerisco di trovare non so se la vedete vediamo se riesco a farvela vedere no non lo so perché non mi si vede però eh questo è eh il testo sentitola guerriero e sacerdote autorità e comunità nell'età del ferro a verucchio la tomba del trono a cura di Patrizia Voneles eh che mh parla in maniera molto approfondita anche proprio dei tessuti ritrovati in in della tomba eh 89 eh in questo caso poi stavo parlando appunto del fatto che questi ritrovamenti hanno dei bordi eh di rifinitura molto interessanti ehm perché sono realizzati con la tessitura a tavolette e eh in molti casi il i bordi presentano un motivo particolare che è a triangoli non so eh ho messo queste due immagini per farvi vedere queste questa riga per farvi vedere come segue proprio a zigzag ad alternanza questi triangoli equilateri sopra tre strisce eh parallele ora ehm questo è un un elemento molto importante perché i i bordi caratterizzano l'abbigliamento etrusco fino ai tempi moderni ehm e ehm passeranno tra l'altro anche mh nei nei tempi successivi mh presso i romani e poi addirittura nell'ambito cristiano insomma li troviamo molto fino a tempi moderni ehm secondo Patrizia Voneles tra l'altro vi leggo un piccolo brano eh il bordo diventa un elemento caratterizzante una sorta di insegna presumibilmente anche il fatto che il motivo a triangoli equilateri su tre linee parallele resti invariato sulla tebenna fino almeno al quarto secolo avanti Cristo ovviamente ne sottolinea il carattere di insegna l'importanza del bordo è confermata dal fatto che nell'arte figurativa esso viene sempre rappresentato per mezzo di una semplice linea oppure ancora più spesso da un motivo a triangoli equilateri numerosi sono gli esempi nella scultura dove il motivo a triangolo viene rappresentato da linee parallele con direzione alternata che rendono l'effetto di un bordo tessuto a tavolette questa è una considerazione che vedremo anche in alcune delle immagini successive cioè l'importanza del della decorazione eh ornamentale non è eh soltanto per questioni di estetica vi è una vi sono delle ragioni di significato e eh il fatto che le troviamo già in un periodo così antico è molto interessante perché significa che questo è qualcosa che è stato elaborato con grande attenzione e che ha avuto quindi anche un una storia molto importante giusto come ipotesi così di lavoro e non eh certamente è un'ipotesi opinabile perché non è basata su alcuna considerazione vi faccio vedere queste due immagini per eh far notare come anche in tempi successivi anche eh quando il bordo decorativo è ben diverso e lo si vede qui nel dettaglio della statuetta dell'offerente il bordo decorativo non è certamente a zigzag o a che dir si voglia però nell'arrangiamento delle pieghe della tebenna eh in questo caso in vita e nel caso della pollo di Veio sul bordo eh gli artisti si sono premurati di sottolineare questa decorazione eh a triangolini a triangoli e eh può essere sicuramente un caso ma può essere anche il fatto che invece il motivo eh a che poi noi lo troviamo anche in molte altre civiltà ed è sempre un motivo significante eh lo troviamo in seguito anche in ambito cristiano e così via se ci fate caso fino ad oggi a dir la verità ha una sua valenza che potrebbe anche eh quindi in questo senso voler ricordare eh il la decorazione a triangoli più antica magari ormai passata non non più presente nella decorazione vera e propria del bordo ma presente però nell'arrangiamento in modo che l'artista lo ha voluto in qualche maniera ricordare. Ripeto che eh anche in questo caso eh non si tratta di un'ipotesi accertata è semplicemente una ipotesi di lavoro volendo eh possiamo vederla così. Nel nella tomba 89 di Verucchio eh sono stati trovati tre eh indumenti due sono mantelli e li possiamo chiamare te benne effettivamente. Eh il terzo invece è un abito che vedremo eh nelle prossime immagini. Qui vi ho messo eh come risulta ancora oggi uno dei dei frammenti più grandi di te benna di questo periodo. Tenete presente che le misure sono importanti sono circa due metri e sessanta eh per ottantotto centimetri. Quindi un oggetto eh a forma di una mezzaluna molto allungata. Tessuti infine lana di pecora con ehm un sistema di tessitura in saia una saia regolare due a due che grazie a quell'effetto di ritorsione dei filati presenta un sottile effetto di quadretti. Il colore di fondo di uno dei due mantelli era marrone chiaro ehm tinto col tannino con il bordo blu molto deciso mentre eh vi è eh l'altro eh l'altra te benna era invece in un colore rosso rosso flamme un rosso molto forte ehm perché ha l'ordito in rosso acceso e la trama arancione con un bordo addirittura di eh porpora cioè color porpora. Alcuni anni fa io e mia madre effettivamente abbiamo ricostruito eh abbiamo cercato di di dare una un'ipotesi di ricostruzione a questo insieme eh d'abbigliamento e eh in particolare qui vi faccio vedere eh la proporzione della te benna. Questi sono i miei manichini eh a mezzo uomo cioè la proporzione è esattamente quella di metà delle misure di un uomo adulto eh che rende quindi eh bene come doveva essere visualizzato l'oggetto una volta che veniva indossato quindi in questo caso eh la te benna che vedete è eh di un metro e trenta per quarantaquattro centimetri quindi la metà esatta di quella in proporzione di quella ritrovata e come vedete eh è un abito è una te benna molto importante eh non è un oggetto piccolo è un oggetto che si presta ad essere drappeggiato con ricchezza anche di pieghe eh intorno alla figura dell'indossatore. Ci possiamo immaginare così eh l'abbigliamento dei notabili del di Verucchio eh intorno al periodo appunto dell'ottavo settimo secolo. Eh merita ricordare come secondo un'interpretazione etimologica piuttosto interessante il termine te benna significa appartenente ai luoghi alti con tutto quello che implica perché eh ci dobbiamo sempre ricordare che gli etruschi costruivano preferibilmente le proprie città su colline e il palazzo tempio era di solito nel punto più alto della città quindi la te benna eh oggetto appartenente ai luoghi alti poteva mh sicuramente voler significare anche appartenente alle persone che vivevano nel luogo più alto quindi nei luoghi alti sia etruschi sia il guerriero sacerdote appunto come è intitolato il libro della di Patrizia Vanelles. Inoltre ehm l'altra immagine che vedete che è tratta anche questa dal dal libro guerriero sacerdote ehm rappresenta il complesso sistema di tessitura che è stato ipotizzato per queste eh te benne perché sono particolari ehm nel senso che la tessitura procede avendo un telaio molto alto e molto stretto cioè la larghezza del telaio è eh di soli eh 90 centimetri un metro mentre eh la tessitura procede appunto nella parte lunga e questo vuol dire eh che eh chi era incaricata di produrre questi indumenti poteva lavorare da sola non aveva necessità di eh come invece si vede in alcune immagini mh di ambito greco di avere delle assistenti. Questa è una cosa molto interessante perché eh ci fa anche capire che queste competenze questa ehm questa capacità di realizzare questi tessuti già così come dicevo prima già complessi eh implica anche il fatto che chi deteneva questo tipo di eh conoscenze eh avesse un rango speciale e noi sappiamo che anche in altri ambiti del mondo mediterraneo eh le tessitrici eh quelle eh diciamo come Penelope, Aracne, Atena stessa eh erano donne eh non solo di rango ma con competenze culturali avanzate. Questa quest'idea ci fa mh ci fa credere che anche nel mondo etrusco la posizione in questo caso delle donne che erano in grado di realizzare questo tipo di eh mantelli fosse nel nei ranghi più alti. Una sorta di status symbol sia per chi indossava la tebenna sia per chi la realizzava. Eh del resto l'analisi degli oggetti cioè proprio l'analisi dei tessuti e delle vesti di verucchio ha permesso di eh comprendere come sia stato così accuratamente eseguito e perfine più minuscoli dettagli ci sono pochissimi errori di tessitura come se la persona che l'ha eseguita fosse stata conscia che altre persone altrettanto esperte avrebbero poi valutato il suo lavoro. Un'apertura interessante anche su quello che è eh la considerazione sociale della tessitura, dell'arte della tessitura di per sé in questo ambito. A Verucchio si trova anche una sepoltura femminile, è stata trovata una sepoltura femminile con eh un analogo rituale di vestizione dell'urna metallica come nel caso di altre mh il maggior numero maschili e anche questo è molto interessante. Tra ottavo e settimo secolo il inizialmente la vestizione con drappi all'interno delle tombe sembrerebbe essere femminile. Eh per le donne si tratta di abiti e manti, per gli uomini di mantelli come la tebenna, fibole e armi. Eh non vi sono in realtà maggiori informazioni per il momento tenete presente che gli scavi di Verucchio hanno offerto la possibilità di scoprire centinaia di di sepolture e molte presentano molti oggetti quindi anche semplicemente lo studio di tutto questo materiale eh è ancora in in sviluppo insomma. Ehm l'abito invece che è stato trovato è un pochino più strano sicuramente e in questo caso mi piace proporvi anche qui la ricostruzione che eh ne abbiamo fatto sempre io e mia madre alcuni sempre nel nel 2006 eh perché l'abito è di forma ovale ma ha questa forma un po' particolare molto danneggiata molto frammentato però attraverso l'analisi del tessuto quindi dei fili del dell'ordito delle trame e i posizionamenti un po' come un sudoku in buona sostanza eh i ricercatori sono riusciti a capire che ha questa forma ovale in questo modo. Eh io ho ipotizzato questo tipo di eh ricostruzione cioè la forma ovale una volta che viene indossata come una tunica eh in realtà è un abito mh a tutti gli effetti. Ora non fate caso al al cinturone perché questo è semplicemente un cinturone eh a scopo dimostrativo eh non c'entra forse niente con quello che poteva essere l'abito di per sé. Non è stato ritrovato nel contesto della tomba per cui è del tutto una mia eh illazione. Però rende bene l'idea. Cioè rende bene come poteva essere effettivamente eh questo tipo di tunica. La lavorazione dell'abito eh presenta una lavorazione a piccole losanghe la famosa diamantina che continuerà ad essere prodotta per tutto il il rinascimento e eh arriva fino a giorni contemporanei perché eh non so se lo sapete ma il il pattern più famoso della casa Gucci discende proprio dal fatto che Gucci all'inizio aveva utilizzato una diamantina molto semplice in canapa eh per realizzare le sue valigie e da lì poi ci ha inserito la doppia G nel nell'incrocio dei vari rombi e e abbiamo eh un un modello di tessuto modernissimo però in realtà è antichissimo. Ora ehm in nel caso di di quest'abito eh mi fa venire in mente anche avendo trattato e lavorato anche sulle vesti liturgiche quando l'ho visto e l'ho realizzato mi ha fatto pensare al fatto che questo potrebbe essere molto vicino al famoso abito senza cuciture così eh eh chiamato nei Vangeli eh l'abito di Cristo quando eh viene spogliato dalle vesti nella crocifissione potrebbe essere stato un mantello potrebbe essere stato un abito come questo però sicuramente questo è un abito che non presenta particolari eh cuciture. Mentre ehm tornando un attimo sulle tebene precedenti non soltanto avevano il bordo lavorato con la tessitura a tavolette che presentava questa 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 decoro a zigzag ma sembra ci sia evidenza del fatto perché sono presenti numerosi piccoli fori che ci fossero anche delle applicazioni soprattutto nelle parti che una volta indossato l'abito potevano essere la tebenna potevano essere più in vista quindi sul davanti e anche questa cosa è molto intrigante eh la ritroveremo un po' più avanti anche in questo caso. Tra i coloranti accertati dai ritrovamenti di verucchio ci sono i marroni soprattutto tannini il blu eh che i ricercatori hanno hanno trovato come intigo e come guado il rosso la robbia selvatica e una serie di gialli non meglio specificati le analisi non sono riuscite a risalire effettivamente a quale pianta eh avrebbe potuto essere ma mh le piante che producono il giallo sono molte dalla ginestra, la genziana, la malva, il ranuncolo e e tutte in realtà anche locali cioè non c'era bisogno di importazione sono coloranti locali eh con eh risultati anche molto vivaci cioè i colori possono essere anche molto vivaci l'abito ehm era appunto probabilmente di un colore piuttosto forte piuttosto importante. Nelle considerazioni sempre tratte da verucchio mi piace moltissimo adoro questa questa urna che vedete qua eh l'urna è molto interessante perché mh mostra questa chiusura particolare che ricorda molto da vicino eh quelli che vengono chiamati affibbiagli che sono questi fermagli che si trovano anche nelle tombe mh spesso in condizioni molto molto difficili perché eh sono metallici sostanzialmente quindi spesso sono ossidati o addirittura si disfano eh però ehm vi è testimonianza di questi affibbiagli vengono chiamati così fermagli eh affibbiagli a pettine di solito facevano parte del costume maschile dell'abbigliamento maschile eh però non se ne esclude la presenza in sepolture femminili perché anche in questo ambito non è sempre così chiaro ehm la differenza di genere non è sempre palese ci sono sempre delle delle eccezioni di qualche tipo mi viene in mente che una delle 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 difficoltà anche è ehm proprio questa è il fatto che per molto tempo non avendo studiato e non conoscendo in realtà come gli antichi si vestissero spesso ci sono stati infatti anche degli errori di 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 interpretazione per esempio eh adesso qui vedete l'immagine dell'uomo seduto dalla tomba delle cinque sedie sappiate che sono cinque le statuette sedute e eh siccome sono state trovate in frammenti eh sicuramente almeno eh due di queste sono state eh ricostruite in maniera sbagliata mettendo una testa femminile che ha eh non in questo caso questa è quella maschile ma quella femminile ha dei dischi eh di orecchino eh rotondi eh su di un corpo però maschile quindi su un corpo abbigliato eh in maniera maschile quindi anche quando si studiano questi oggetti e questo campo di studi eh può presentare delle difficoltà non non indifferenti però mi piaceva farvi vedere appunto come anche l'urna cineraria presenta questo questo affibbiaglio che raffigura il defunto stesso cioè l'urna di per sé raffigura il defunto e eh spesso vi sono eh immagini antropomorfe delle urne dove c'è il volto sopra l'urna e quindi si capisce che c'è proprio una sorta di identificazione in più se pensiamo ai rituali di sepoltura dove l'urna veniva ulteriormente eh coperta decorata con i tessuti appartenuti al defunto si capisce come per chi partecipava al rito funebre era proprio come vedere la persona defunta eh mi piace anche pensare che queste decorazioni geometriche che voi vedete sulla pancia dell'urna e sul coperchio dell'urna eh non siano così lontane dalle decorazioni dei tessuti stessi cioè come se fosse proprio un tessuto poggiato o avvolgente eh l'urna eh in questo caso l'urna moroni eh gli affibiali qui vi ho messo un affibialio che proviene da Castelnuovo Berardenga eh siamo intorno allo stesso periodo ed è molto decorato qui a solo due ganci eh in questo caso potrebbe essere un affibialio da cintura eh però abbiamo anche bottoni bottoncini e fibule eh guardate se non siete mai state al museo di Verucchio vale la pena andarci soltanto per vedere queste fibule che hanno lì ora queste qui centrali sono meravigliose una delle cose più belle che io abbiamo mai visto in vita mia sono fatte di ambra e di avorio e tutte presentano delle decorazioni affascinanti cioè fanno pensare all'arte vetraria ma di vetro non c'è niente qui eh queste sono fibule a sanguisuga le altre vi ho messo invece delle fibule più tradizionali diciamo a cui siamo più abituati a vedere sia a rilievo insomma lavorazione a sbalzo oppure con la famosa lavorazione a granulazione che è stata per molto tempo un altro di quei famosi misteri etruschi che poi invece siamo siamo stati in grado di più o meno comprendere come funzionava eh nell'immagine a lato vedete questi questi bottoncini in ambra vengono proprio definiti così eh nel testo della Patrizia Voneles eh a cui manca probabilmente la parte metallica cioè all'interno eh per fissarli sugli abiti avevano un anellino di bronzo filato eh che consentiva così di cucirli sui tessuti il fatto è che queste sono un po' come delle borchette pensate alla fine quando poi vengono eh come come delle delle paillettes eh hanno l'effetto di dare molta luce di donare molta luce al tessuto su cui vengono applicate e sicuramente erano un oggetto molto costoso l'ambra veniva importata importata dall'est eh e quindi era un materiale estremamente lussuoso il fatto che ve ne fossero tantissime mh e quindi dimostrano un eh un'attenzione un bordo decorato molto ricco ci fanno capire quanto mh importante potesse essere quindi l'aspetto finale di chi indossava tutto questo apparato di materiali eh chiaramente vediamo un pochino più ehm da vicino appunto il cambiamento dell'abbigliamento eh in periodi alti quindi qui siamo intorno al settimo sesto secolo eh l'abbigliamento maschile e femminile è ancora abbastanza pesante diciamo così hanno molti punti in comune le vesti di questo tipo con le altre eh le vesti che troviamo sia nel mondo italico che nel mondo greco ehm ci sono delle immagini molto interessanti del mondo sannitico e ci sono molti punti in contatto con con l'abbigliamento mh però da un certo punto di vista vi sono anche delle differenze interessanti eh soprattutto le vesti etrusche sono spesso piuttosto aderenti ehm e hanno presentano le maniche cosa che per esempio nel mondo greco si all'inizio in tempi alti poi dopo scompaiono diventa il chitone diventa un'altra cosa e perde eh perde le maniche mentre in ambito italico le maniche continuano eh ad essere presenti ci sono sia manichine corte come quella che vedete qui sia maniche lunghe come quella che vedete in questa altra immagine tratta dalla biga di Monte Monte Leone. Notate anche la ricchezza del bordo decorativo specialmente nell'abbigliamento femminile qui si vede bene nella nell'immagine di Teti così come si vede bene anche in questa scena rituale eh dove in questo caso si pensa siano divinità questa dovrebbe essere eh minerva. Notare anche la la l'acconciatura che per molto tempo le donne etrusche porteranno delle lunghe trecce posteriori come quella che vediamo qua e avranno anche delle caratteristiche particolari nel caso dei mantelli per esempio ehm uno delle delle forme più particolari è proprio un mantello ehm è simile a questo qui anche se non sono sicura che questo sia di quel tipo eh che ha delle una parte posteriore e due sorte di lingue anteriori quindi è è strutturato proprio in maniera particolare il le vesti etrusche hanno eh alcune caratteristiche che non sono condivise da altri da altri da altre popolazioni del Mediterraneo. Mh per esempio vi è una forte attenzione proprio all'aspetto sartoriale. Ora questa detta così sembra una cosa chissà che. No è semplicemente che eh le vesti per lungo tempo eh presentano una forte attenzione a dettagli mh decorativi, dettagli di cuciture, eh i bordi per esempio i bordi ornati e eh questa è una caratteristica veramente che troviamo moltissimo proprio in ambito etrusco. Noi troviamo hm anche un chitone maschile che vedete qua eh alla sinistra un chitone maschile a tre quarti. Inizialmente è indossato da uomini eh che non indossano il chitone lungo e formale degli uomini anziani o degli uomini di autorità eh e che non indossano neanche il perizoma degli eroi, degli atleti o dei guerrieri. Eh quindi eh di giovane ma non atleta diciamo così. Giovane di rispetto ma non non atleta. Eh nel tempo diventerà un abito che noi troviamo più spesso essere usato dai servitori che non dalla nobiltà. Eh questo però eh lo si vede anche nell'evoluzione proprio dell'abbigliamento in ambito etrusco. C'è come dicevamo all'inizio c'è una discreta una discreta mobilità delle vesti nel senso che eh non è vero che le vesti rimangano sempre le stesse per centinaia di anni. Non è così. Anzi eh soprattutto intorno al sesto quinto secolo vi sono notevoli eh nuovi abbigliamenti che diventano proprio di moda e che cambiano quindi l'aspetto eh delle persone che noi possiamo poi vedere anche in seguito nelle prossime slide. In questo periodo compaiono anche i calci e i mandi eh che potete vedere qui queste scarpe a punta indossate in questo caso da quella che si pensa essere Minerva che sono una moda reale cioè una moda vera è stata indossata veramente poi è stata eh anche in questo caso ha avuto una sua evoluzione di cui parleremo tra breve. Nel caso degli uomini citoni accanto al chitone lungo e al chitone a tre quarti viene a un certo punto ad essere utilizzato anche il chitone corto o il chitoniscos che è molto comune in ambito greco meno amato in ambito etrusco. Erano erano più spesso utilizzati per i zomi o questa sorta di chiamiamoli pantaloncini io l'ho messo tra virgolette perché non sappiamo esattamente come erano eh realizzati però l'evidenza sembrerebbe essere proprio quella di una sorta di pantaloncino ehm in questo caso indossato da questo guerriero con un cinturone. Nel quinto secolo il chitone corto eh indossato senza altri indumenti è già in uso solo ai servitori mentre le classi sociali più elevate eh lo indossano ma lo indossano insieme alla tebenna e quindi non lo si porta più a sé stante da solo come come quando è iniziato ad essere utilizzato diciamo nel nel sesto secolo diventa più comune e nel nel quinto secolo diventa invece una moda già vecchia mettiamola così. Eh l'aspetto del pantaloncino corto eh rientra in in quegli aspetti legati al mondo sartoriale di cui parlavamo prima eh conferma come gli etruschi fossero attratti da rappresentare indumenti cuciti eh e modellati sul corpo cosa che le differenzia da altre culture eh coeve cioè dello stesso loro periodo. Un'altra differenza è data dal fatto che in ambito etrusco la nudità eroica eh così apprezzata nel mondo greco invece qui non viene molto amata e eh questo solleva un altro problema interessante che è quello dell'interpretazione delle fonti. Molto spesso ehm noi dobbiamo renderci conto che vi sono delle convenzioni artistiche che fanno sì che eh appunto gli artisti rappresentano un certo corpo, abito, dettaglio, accessorio eh che non è etrusco ma è quello che riescono a capire da eh ispirazioni, da altri oggetti d'arte, da narrazioni e questo ehm ovviamente rende un po' più complicato riuscire a capire eh che cosa era effettivamente indossato eh oppure no. Però noi sappiamo che eh parlando appunto della nudità, la nudità nel mondo ero nel mondo etrusco non è eh qualcosa che viene ammirato particolarmente e perfino i più grandi eroi come Ercole per esempio eh di solito hanno sempre qualcosa addosso che li copre in particolare. Nei secoli successivi mh le figure nude sono di solito le figure inferiori, prigionieri, servi, eh bambini e non sono mai figure importanti. Mi piace molto la il chitone della pollo di Veio che sembra quasi una t-shirt moderna. Guardate che se guardate eh un una foto diciamo così ingrandita meglio si vede addirittura il bordino di rifinitura che è identico a quello di una t-shirt di adesso praticamente. Quindi molto intrigante questo aspetto appunto come dicevo prima l'attenzione per il dettaglio e anche il dettaglio sartoriale. perché per fare un bordo come quello beh eh si può fare in tanti modi ma eh uno di questi modi è sicuramente un eh una cucitura quindi un'attenzione sartoriale precisa. Il chitone è di solito di lino. Il chitone di lino tebenna di lana è il titolo della slide e vi ho messo questa immagine famosissima dalla tomba dei leopardi una delle tre coppie che sono al banchetto ehm mi piace perché fa vedere bene la eh il chitone della donna mentre l'uomo vedete che è a torso nudo ma ha la tebenna e quello che è nudo effettivamente è un servitore. Eh la donna indossa questo chitone linteo che ha queste eh linee di cucitura sulle spalle e intorno ai bordi che servono sono in realtà funzionali. Noi le troviamo già nel mondo ehm minoico ehm e sottolineano proprio eh quelle cuciture che ehm potrebbero cedere diciamo così perché sono in posizione di tensione di possibile tensione come il braccio la spalla eh del dell'indumento. Quindi cosa sono? Beh sono mh delle strisce applicate mh possono essere delle strisce tessute a tavolette per esempio oppure di tessuti riportati che servono per consolidare la cucitura e questa è una cosa anche in questo caso eh secondo me molto intrigante molto interessante che ci fa capire questa grande attenzione per tutto ciò che è l'abbigliamento. Notiamo poi come gli sposi sono coronati di mirto è un uso questo che si eh evolverà nel tempo noi troviamo spesso nei banchetti corone di vario tipo poi diventeranno anche corone pregiate. Ora vi ho messo qui eh un un dettaglio da un'altra tomba famosa che è quella tomba dell'orco dove c'è la la sposa che si chiama Velia Velja che ha questa questa sorta di diadema fatto a foglioline che si intuisce non essere di un materiale vegetale ma essere probabilmente simile a quella che vedete qui sotto questa è al museo archeologico di Firenze non ho messo la didascalia ma questa è di Firenze e queste foglioline poi noi le troviamo all'interno di ehm di tombe evidentemente proprio con un uso di accompagnamento del defunto nei banchetti dell'aldilà. In effetti molto interessante è proprio l'attenzione posta nella riproduzione dei tessuti si intuisce bene come vi sia eh il chitone che probabilmente è di lino con queste pieghe che sono fatte in rosso ma non sono decorazioni aggiunte queste sono pieghe dell'indumento poi si vede eh la tebenna maschile con questo importante bordo blu vi ricordo che il blu è sempre stata una tintura fino a fino al rinascimento in buona sostanza un un colore difficile da produrre quanto il verde tra l'altro e qui vediamo sia eh il bordo blu dell'uomo come il bordo verde della donna e poi eh vi faccio notare come vi sia la presenza di questo bel tessuto a quadri eh sopra il triclinium quindi come come arredo una coperta e eh qui il il pittore si è veramente preso eh la briga di rappresentare con grande attenzione tutti questi diversi livelli di lettura quindi un aspetto molto particolare e caratteristico del mondo etrusco un chitone particolarissimo è quello che vedete qua eh dalla metà del sesto secolo e nell'arco di una ventina d'anni si afferma anche in etruria il chitone ionico e fin qui niente di strano il chitone ionico è un chitone molto ricco in lino eh che viene rappresentato sui vasi e sugli specchi e nelle varie statuette con una ricchezza di pieghe eh molto ampio eh che deriva dal mondo greco in buona sostanza mh sarà indossato poi dalle donne etrusche fino a tutto il il quarto secolo fino al periodo ellenistico ma un aspetto solo etrusco è la comparsa di questa specie di chiamiamolo tassello sulle spalle delle figure come vedete qui nelle immagini questa è da Venere e da Adone questa si si intuisce meno bene questa si capisce meglio come è realizzato e qua altrettanto si capisce piuttosto bene come può essere eh realizzato che cosa si di cosa si tratta è un'increspatura realizzata da arte per raccogliere proprio la ricchezza del tessuto e rendere l'abito eh più indossabile più funzionale ma anche più bello perché fa queste pieghe molto ricche che poi eh ovviamente danno importanza eh soprattutto alla gonna in eh casi diciamo mh più tardi eh si trova anche come come se fosse un elemento aggiunto sulla veste cioè come se fosse eh un'applicazione ma nei casi nelle prime immagini che si trovano come queste intorno al quattrocento all'incirca eh si capisce che è una increspatura e mh anche in questo caso eh qui ho realizzato una ipotesi di ricostruzione di questo tipo dove ho messo in rosso la quel quella quel nastro che regge le pieghe del chitone sulle spalle ma ho fatto questa increspatura eh fermata con eh del filo eh a grossi punti come si vede anche qui cioè fermata a intervalli regolari ma abbastanza grossi punti e qui lo si vede ancora di più va bene come come quando si fa il tie dye per intenderci eh e in effetti eh rende l'abito molto intrigante perché la ricchezza che altrimenti avrebbe rischiato di ehm come dire di aprirsi eccessivamente o di dare fastidio nel momento in cui lo indossi un abito così eh in questo modo è controllata quindi tiene la figura sotto controllo e questa è una caratteristica del mondo etrusco ha certamente un significato speciale è indossato solitamente da donne di alto rango o da divinità e o da divinità compare raramente sugli abiti maschili ma anche quando eh compare sugli abiti maschili si tratta sempre di divinità quindi ci fa capire che è sicuramente un elemento significante non sappiamo esattamente la storia dietro a questo a questo elemento specifico eh però sappiamo che verrà portato fino oltre eh il terzo secolo quando poi piano piano scompare e eh beh il terzo secolo è anche il periodo in cui gli etruschi cominciano a perdere i loro le loro prerogative di dominatori e cominciano ad essere assorbiti lentamente poi nel mondo romano forse le cose sono correlate forse no fatto sta che questo aspetto è eh specificatamente etrusco e molto interessante e a proposito di arrivare dentro il mondo romano non potevo non citare ovviamente l'arringatore eh perché presenta alcuni dei simboli di potere infatti la slide si intitola simboli di potere più importanti che sono sopravvissuti e sono passati nel mondo romano l'anello per esempio l'anello senatoriale l'anello religioso eh ancora adesso no l'anello del papa eh l'anello nel mondo medio orientale nel mondo arabo ha una valenza per esempio ancora oggi molto importante segnale in sala eh un rango specifico ed è uno dei pochi gioielli che gli uomini indossano volentieri quindi un bel anello eh implica eh potere eh nel caso specifico del della veste dell'arringatore eh indossa un chitone una tunica ormai con clavi che sono queste strisce eh decorative se guardate l'originale se andate a vedere l'originale si vedono veramente molto bene qui ve l'ho indicata all'interno di questo cerchio si vede questa struttura più liscia della superficie accanto che è leggermente zigrinata e fa capire come quello che vediamo è un tessuto quindi eh di un tipo e questo invece è un tessuto di un altro tipo quindi vi è questa doppia eh rappresentazione la statua dell'aringatore è un capolavoro di per sé bellissimo è anche se ci fate attenzione eh la cura con la quale lo scultore è riuscito a far vedere a farci vedere addirittura la cucitura laterale della tunica si vedono proprio i punti eh i punti di fermatura proprio il sopraggitto si vede proprio ed è interessantissimo e poi eh notevole è la tebenna toga toga tebenna eh beh eh questa è stata studiata molto se ne è parlato molto reca l'iscrizione in basso di chi ha fatto fare la statua per chi eh che in realtà si scopre essere una comunità che ha eh donato in qualche maniera ha voluto riconoscere il ruolo di Aulo Metello come importante per la comunità ma dove l'ha fatta scrivere sul bordo con l'iscrizione cioè l'iscrizione è nel punto più in vista nel punto più riconoscibile e nel punto tradizionalmente che abbiamo visto fin dal settimo secolo essere il luogo significante di di per sé quindi mh il bordo non è l'iscrizione scusate non è messa a caso è messa nel posto più degno eh più importante dove per tradizione si mettono le cose importanti quindi quello che ha significato e poi eh non mancano anche in questo caso i calcei di per sé eh i calcei mh hanno come dire eh un'importanza ehm che a Roma poi diventeranno simboli veri e propri di rango di status senatoriale senatoriale e di cavalierato eh e sono realizzati in questo modo cioè molto specifici con delle allacciature molto stringate molto ehm codificate diciamo eh un altro aspetto importante eh di questa stato è proprio eh la toga tebenna di per sé eh e qui ehm beh eh qui si può ci possiamo chiedere se e quando è come eh la tebenna da simbolo di ehm alto rango è passata a significare qualcosa di simile ma di diverso nel mondo della Roma repubblicana eh diventa simbolo di cittadinanza diventa simbolo del del potere del popolo eh quando laddove eh nel mondo etrusco invece era il potere aristocratico beh di questa storia ancora non abbiamo eh informazioni eh come dire più dettagliate però sicuramente eh sappiamo che eh appunto anche i contemporanei dicono anche gli etruschi avevano la toga ma la chiamavano tebenna e quindi questo ci fa capire come l'oggetto eh in qualche maniera discende eh come simbologia proprio dal mondo dal mondo etrusco probabilmente come altri anche eh non dimentichiamoci che Tanachilla per esempio la regina etrusca moglie di Tarquino Prisco nella nella leggenda intorno alla sua alla la sua storia vuole essere stata lei colei che ha insegnato alle donne romane a lavorare la lana eh e quindi mh uno degli delle reliquie più importanti eh che era conservato a Roma nel Tempio Capitolino era proprio la conocchia di Tanachilla che poi andò persa ovviamente ma eh questo aspetto è molto significativo se ricordiamo quale eh importanza abbiamo immaginato seguendo il lavoro fatto da Vonelles sulle sulle tombe di Verucchi abbiamo immaginato per le donne etrusche di rango essere coloro che detenevano le conoscenze le competenze per realizzare gli abiti eh di status superiore quindi mh un aspetto molto importante anche questo e qui vediamo cosa sono invece calce e i repandi nel mondo etrusco sono sempre simboli di potere in realtà ehm non sappiamo in realtà se si chiamavano calce e i repandi questo è quello è il modo tradizionale con cui noi oggi li identifichiamo cioè parliamo di calce e i repandi quando vediamo queste calzature con la punta rivolta qua in su eh che sono giunte probabilmente dalla Grecia o dal Medio Oriente eh insieme al chitone ionico eh in Grecia questi stivaletti erano rossi e le calzature rosse erano in uso anche nel mondo etrusco ehm come oggetti di moda sono sicuramente in uso dal cinquecentocinquanta circa al quattrocentosettanta circa dopo questo periodo eh queste calzature eh a punta diventano poi ehm scarpe in uso mh quasi esclusivamente alle divinità femminili in particolare è giunone che li indossa con un'allacciatura molto simile a quella dell'arringatore cioè eh uno stivaletto non è una una ciabattina è proprio uno stivaletto con i lacci che eh avvolge anche la caviglia eh e queste forse sono i veri calci repandi eh di cui appunto si 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 capisce dalle dalle immagini dalle e dalla letteratura. L'altro elemento caratteristico e specifico di cui abbiamo accennato all'inizio è il copricapo che eh in particolare sempre nello stesso periodo quindi dalla metà del sesto secolo alla eh prima metà del quinto secolo eh viene detto tutulus ed è questo copricapo che ha varie forme in realtà però con questa forma di punta allungata sulla parte posteriore della testa. Probabilmente viene in questo caso dal mondo medio orientale e da acconciature maschili da mode maschili e non pensate che sarà la 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 sola volta in cui questo succede anzi succede spessissimo nel corso della storia del dell'abbigliamento che forme nate per essere utilizzate in ambito di un genere poi finisce per essere finiscono per essere utilizzate eh dal genere opposto eh mi viene in mente anche l'uso degli shal kashmer per esempio durante il periodo napoleonico che erano in realtà eh le le coperte cinture eh degli degli uomini eh egiziani insomma del mondo medio orientale e vengono inviati in dono alle mogli dei soldati napoleonici francesi e non solo e inglesi che erano a distanza in Egitto e diventano quindi poi lo shal le femminile per eccellenza però erano in realtà oggetti maschili quindi il tutulus anche in questo caso probabilmente nasce in ambito maschile in un'altra cultura viene adottato e diventa di grande successo in ambito femminile per un lungo periodo di tempo e eh in generale si può dire che nel mondo etrusco viene molto apprezzato eh l'aspetto legato alla 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 testa diciamo quindi alle agli ornamenti da testa non è soltanto il tutulus noi ne abbiamo tantissime rappresentazioni di diverse tipologie di copri capo e mh questo meriterebbe uno studio tutto da sé ecco diciamo per i fatti suoi last but not least ho voluto mettere appunto l'Arzia Seianti con cui abbiamo iniziato eh perché perché è una delle sculture eh che per quello riguarda l'abbigliamento più complete in assoluto è molto moderna è un sarcofago che risale al al secondo secolo avanti Cristo e eh molto completo perché abbiamo anche il corredo funebre che vedete qui in in piccolo in basso eh l'Arzia è molto eh composta ma fa un gesto molto specifico ehm non sappiamo in effetti se sta coprendo il volto o scoprendo il volto in realtà probabilmente fa entrambi i gesti eh perché coprirsi il volto era il simbolo del lutto ma lo scoprirsi il volto è il simbolo del della rinascita eh e in questo senso eh la morte equivaleva anche a accedere ad un al di là quindi nascere in un altro luogo in un altro in un'altra dimensione eh la Erzia indossa ogni genere di di decoro eh ha due collane una spilla i braccialetti la cintura con le gemme eh un diadema eh di fiori che potrebbero essere naturali come eh fiori gioiello ehm orecchini importanti e e una quantità molto interessante di anelli vi ho messo apposta questa immagine in cui si vede il sotto della mano perché di solito nelle immagini della di la Erzia sdraiata non non si vedono quasi mai le mani eh la mano sinistra eh sotto il piatto d'offerta ma guardate quanti anelli ha ne ha uno al pollice uno al all'indice due all'anulare e uno al mignolo eh e tutti sono estremamente hm diciamo con una bella pietra eh colorata rossa in generale sono rossi ma non solo o sigilli potevano essere di vari tipi nel corredo funebre in effetti sono stati trovati due anelli o più anzi di più uno due tre quattro e cinque effettivamente più questa collana con eh questi pendenti eh che venivano considerati ehm antimalocchio eh gli orecchini che sono diversi rispetto a quelli che lei indossa nel sarcofago sono dei dischi eh tondi mh molto usati in realtà nel quinto secolo ma poi continuamente riproposti anche nei secoli successivi e delle piccole fibule che eh servono per fissare dei tessuti non troppo pesanti quindi dei veli per esempio o il chitone stesso sulle spalle o altri accessori che poteva poteva utilizzare le sciarpe dei tessuti eh nel corredo vi sono anche diversi strumenti da toilette eh dei vaghi di di vetro eh delle ampolline per il trucco un pettine eh quindi tutto quello che poteva servire effettivamente per la cosmesi eh si vede che ehm l'Arzia è una che ci ritiene all'aspetto ma del resto ahimè eh più ci si avvicina al al momento di di passaggio nel mondo etrusco nel mondo romano più le donne etrusche perdono il loro potere e eh si assimilano alla alla condizione della donna romana che sicuramente non aveva eh né l'importanza né eh il potere delle antiche donne etrusche ehm in buona sostanza la donna eh eh etrusca del dei secoli di integrazione con il mondo romano eh avrà cura di sé soprattutto eh nel nel campo dell'aspetto fisico e ovviamente sì di rango sociale ma quello veniva a seconda della famiglia del padre e del marito ehm quindi sempre di più si perde quella importanza che abbiamo visto in precedenza e si rientra invece in un campo che è quello eh sfortunatamente per loro della legge romana ultima nota da che vi faccio vedere è la scarpa che è un sandalo molto bello eh molto rifinito di cui si comprende bene la struttura con una parte metallica e una parte di cuoio e eh la suola rialzata eh che era anche questa un elemento molto gradito alle donne etrusche e non solo in tutto il mondo greco romano era molto amato questo tipo di di scarpa eh da ricordare che gli etruschi sono famosi anche per un sandalo particolare che viene ricordato nelle fonti e di cui esiste eh un un ritrovamento archeologico un sandalo ligno che consentiva però al piede di ehm adattarsi meglio al al suolo perché non era la suola in un pezzo unico ma in due fermate in mezzo da una cerniera quindi il piede poteva eh adattarsi meglio nel movimento eh al suolo che era mh una hit era molto amata eh e quindi veniva esportata era una calzatura che veniva esportata e di cui abbiamo notizia da varie fonti letterarie quindi non era soltanto un un oggetto che sta trovato archeologicamente ma anche qualcosa di cui noi sappiamo perché lo ammiravano altre culture e in questo caso non sappiamo se questo era nello specifico quel tipo di calzatura perché non ne vediamo il sotto ma eh sicuramente questo piedino che spunta dal chitone e dal mantello e si fa vedere con questo colore rosso era un elemento assolutamente elegante sensuale molto femminile e adatto quindi ad una figura femminile come come l'Arzia eh con questo arrivo alla fine e vi mostro uno dei sarcofagi più belli in assoluto questo è l'Arctetnes e la moglie Tantviltarnai e sul loro letto eh in realtà è il loro sarcofago eh proviene da vulci eh trovo che sia uno del degli oggetti eh di fattura etrusca più belli eh anche perché noi sappiamo che eh così rappresentati così li ha voluti il loro figlio eh è il figlio che eh rappresenta padre e madre eh abbracciati per l'eternità notate la mano di lei dietro il collo di lui la mano di lui sulla spalla di lei eh eh si guardano negli occhi non vi è eh né falso pudore né eh come dire sottomissione dell'uno dell'altra sono sullo stesso piano e eh questo ci fa comprendere anche come la società etrusca fosse una società eh che meriterebbe studiare meglio meriterebbe studiare di più e e forse ci aiuterebbe anche a ehm non so a capire come come andare avanti nel nostro futuro insomma ci dà delle buone speranze se eh se impariamo qualcosa da loro. Con questo vi ringrazio dell'attenzione e vi dico buonanotte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.